Era talmente diffusa questa pratica a causa delle restazioni baronali nei centri, perché qui c'erano praticamente un principio ad oltre il 99% di terre feudali. Gli unici paesi che erano non soggetti al sistema baronale erano Ariano e Montebrusco, che si erano riscattati da loro. Grazie a tutti. 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 E ci ho unito che significa, purtroppo attraverso la mancanza di questa figura non possiamo capire se c'è questa, ovviamente, perché abbiamo un'immagine non completa, non possiamo capire se c'è questa sottomissione o meno, e c'è questa lotta a favore di vita. possiamo rimanere a tutti perché il mio Presidente è indicato a poter indicare di scena, ma non c'è questo bene, e lo stesso tecno deve indicare, in alto quasi di un po' 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 di un po'. Grazie a tutti Grazie a tutti C'erano diversi individui Una era quella del Moscone dove erano praticamente chiusi con una sacca dove c'erano inseriti api e calabroni